Il PSR è un documento di programmazione che le regioni preparano affinché si possano ottenere i finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalle regioni medesime per dei piani strategici di sviluppo rurale. Noi abbiamo da poco concluso uno progetto PSR relativo alla produzione e la coltivazione di limone di Sorrento. Un progetto che aveva come propria ragione d'essere la distintività di queste produzioni territoriali che caratterizzano poi i prodotti trasformati, fra cui il limoncello di cui la nostra azienda è il leader di mercato. Noi abbiamo utilizzato la misura 124. Noi abbiamo individuato un progetto che abbiamo definito PIL, Progetto Integrato Limone, ed è un'innovazione tecnologica nella coltivazione del limone di Sorrento. Questo consiste nell'utilizzo di bioformulati del tutto naturali che garantiscano alla pianta una difesa immunitaria contro gli organismi patogeni. È un'innovazione trasferita appunto nelle nostre colture che ha consentito di avere ottimi risultati in tema appunto di qualità dei frutti, ma non solo, anche ovviamente di trasformati, perché poi questo genera accaduta un effetto positivo su tutti i trasformati. Abbiamo collaborato con l'Università di Agraria della Federico II di Napoli, poi noi siamo stati come Villa Massa l'azienda capofila e si sono associate a noi altre tre aziende agricole del territorio. Il progetto PIL è costato intorno ai 493 mila euro, di cui il 75% finanziato appunto dall'Unione Europea attraverso il PSR. Probabilmente senza l'intervento del PSR non avremmo realizzato questo intervento, oppure lo avremmo realizzato in misura decisamente ridotta. Le difficoltà sono anche nella poca capacità dal punto di vista proprio culturale delle aziende agricole di aggiornarsi e di fare rete tra di loro. Naturalmente ci sono i soliti problemi burocratici, ma sostanzialmente dovrebbe passare l'idea di un'agricoltura un po' più compartecipata dal punto di vista delle realtà produttive del territorio, in modo da poter effettivamente trasferire a tutta la filiera, a tutto il settore, le innovazioni che vengono sperimentate da alcuni pionieri. A questa esperienza noi traiamo la convinzione che è possibile innanzitutto collaborare attivamente con enti di ricerca che possano soddisfare le nostre necessità. La soddisfazione di aver collaborato all'interno della filiera e trasversalmente e orizzontalmente con tutti gli altri produttori agricoli, anche nella fase di trasferimento del know-how a tutta la collettività.